Ciao, buonasera a tutti. Mi chiamo Raimondo Rossi e sono un appassionato di vecchi giocattoli e in particolar modo di action figures. Diciamo che una cosa che rappresenta la mia più grande passione è quella di procurarmi attraverso degli scambi baratti con altri amici e dei personaggi che mi piacciono e poi magari provo a modificarli trasmettendoli un po' della mia tra virgolette anima, cercando di modificare un viso, cercando di dargli quella personalità che a cose normali un giocattolo non avrebbe. Anche solamente per il piacere di vedere l'impressione che suscita negli amici che hanno e condividono la stessa passione, sia Italia che D'Avola dall'altra parte dell'oceano, dove è più diffusa questa mania, questa passione. E qui per farvi un esempio c'è qualcuno dei miei personaggi che poi vi farò vedere un po' meglio. Li prendo che sono praticamente ridotti a pezzi, in briciole o poco più, e poi dopo attraverso un'opera di lavorazione, paziente, più o meno paziente, perché poi la parolascia ci può anche stare, vengo a ricomporre quello che è il personaggio e poi vado a ridipingerlo in maniera completa. Finché poi dopo alla fine, rappresentando un nuovo, completamente nuovo personaggio, può essere presentato agli altri appassionati e nel caso può esserci magari anche l'interesse di qualcuno può essere venduto. Su ebay o attraverso i social c'è abbastanza richiesta. E come diciamo è nata questa passione? Prima di tutto devo dire che fin da piccolo ho sempre avuto una certa passione per quelli che sono gli universi in miniatura, potevano essere tempi vari Playmobil o comunque altri settori tipo i vecchi Masters of the Universe o giocatori che comunque richiedevano una certa fantasia che veniva stimolata nel bambino e ti veniva voglia di modificarlo, di fare tante piccole cose. Poi invecchiando quella che era una passione fanciullesca è ritornata fuori e diciamo che mi ha aiutato anche scoprire nel web che ci sono tantissimi appassionati che seguono questa stessa follia creativa e ci scambiamo le nostre impressioni. Alcuni addirittura vanno a vendere le loro action figure su internet e io ho detto perché no? Proviamo anche questa strada qua. Considerando che è un momento difficile dal punto di vista economico in Italia, una crisi che non accenna a finire, ho deciso di provare a trasformare quella che era solamente una passione in qualcosa un po' di più e sto cominciando a guardarmi intorno e vorrei renderlo qualcosa di più di un semplice hobby. Il mio sogno è quello di avere una sorta di realtà creativa, artigianale, produttiva in cui riesco a mettere a frutto quello che è questa mia abilità nel modificare i personaggi. Ora vi faccio vedere qualche campioncino di quelli che sono i miei lavoretti.